Mi chiamo Lorenzi Marcello a Firenze, sono direttore del personale di una società a Firenze, Bricolaggio e Giardinaggio, Commercio, Obitalia, io ho sempre lavorato nell'ambito dei risorse umane e ho cambiato solo tre aziende e ho avuto la fortuna di incontrare Obitalia vent'anni fa. Saluto i miei collaboratori, mi accetto che non siano rimasti i collaboratori in ufficio per avere spunto per nuove idee. Loren leader, a selezionare al meglio le risorse umane insieme alla nostra organizzazione per fornire qualità e servizio ai nostri clienti, persone, manager, ascoltare, giardinaggio, palmare, libro. Un business sicuramente è le piattaforme, c'è la logistica e il business del futuro, l'avete confermato oggi, quindi il digitale è le piattaforme, soprattutto le piattaforme per l'Italia. Ve ne dico solo uno, il share manager, sì, perché trovo spunto per nuove idee, sicuramente qualcosa di nuovo c'è, sì sono iscritto, perché qualcuno tanti anni fa mi ha convinto a iscrivermi. Poi mi ci sono ritrovato e mi ci sono affezionato. No.